Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, finalmente rivelato i supporti Salaman Great che andremo a vedere e speriamo che siano decenti. Prima di iniziare ragazzi come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre a giornalismo mondo di Yuki, mi raccomando, è importantissimo, grazie mille. Dato che è già in preordena a un prezzo abbastanza basso, vi lascio il link Fantasia Store in descrizione per preordinarlo, passando dal link aiuterete ovviamente anche il canale. Detto questo, partiamo con il video. Allora, Salaman Great, Weasel, il primo Tuner? È il primo Tuner? Penso di sì, il primo Tuner è Salaman Great, credo, no? Vabbè, insomma, Tuner. Allora, effetti una volta per turno, sappiamo due più Salaman Great del Cimitero, possiamo specializzare questa carta dalla mano. Ok, si può fare. Se un Salaman Great, Rituale Fusione, Synchro, Xyz e oppure Link vengono evocati specialmente sul terreno mentre questa carta è nel cimitero, possiamo targetare un altro Salaman Great e controlliamo, piazziamo questa carta in fondo al mazzo, se lo facciamo specialiamo quel target sul terreno dell'avversario, poi peschiamo una carta. Sul terreno dell'avversario, c'è qualche carta che magari fa roba brutta sul terreno dell'oppo? Non mi ricordo. Io non mi ricordo per niente. Poi, Salaman Great, Tiger, anche questo qui, Tuner di livello 5. Quindi, possiamo attivare l'effetto, il primo effetto di questa carta una volta per turno, possiamo scartare un altro Salaman Great per specializzare questa carta dalla mano, poi anche magari scartare spinni così poi te lo rievo nel cimitero. Se una carta che controlliamo sta per essere utilizzata come una carta materiale synchro per un mostro fuoco, possiamo trattare questa carta come una carta non tuner. Una volta per turno, possiamo aumentare o diminuire il livello di questa carta di uno. Quindi, fondamentalmente, con lui ci puoi fare il Baron. Nell'evoque special, gli aumenti il livello di uno, lo fai diventare il livello 6, fai un gioco in livello 4 a caso, e c'hai il Baron in Salaman Great. Anche perché, comunque, nel Salaman Great, quando ti fa fare evocazioni, non c'è la limitazione del solo mostro fuoco, quindi... Ma buttiamocelo un Baron, daie, daie così. Eccola qui, Salaman Great, Raging Phoenix, Link 4 2008. Se questa carta viene evocata al Link, utilizzando Salaman Great, Raging Phoenix come materiale, aggiungiamo una carta Salaman Great dal deck alla mano. Se uno più mostro di fuoco scoperti sono presi distrutti in battaglia, effetti una carta, mentre questa carta è nel cimitero, possiamo targettare uno di essi. Specialiamo questa carta e se lo facciamo guadagno attacco uguale al mostro... Non è che mi faccia impazzire, eh. Cioè, come Link 4, poteva fare anche un po' più roba. Però, insomma, te lo puoi evocare tranquillamente quando si spacca un Salaman Great. Vabbè, insomma, è buono perché c'è anche le tre friccette sotto che sono abbastanza buone. Comunque tutti puoi evocare lui, buttare sotto lo caldo... Cioè, Lighting Wolf, Sunlight Wolf e il resto. Però, insomma, poteva essere un po' più forte. Però, vabbè, vediamo il Synchro, Bors Griffon, un Tuner più uno più mostro di un Tuner di livello 8. Possiamo targettare il mostro di 7 inferiore, fuoco nel cimitero. Non possiamo evocare specialmente i mostri per essere di questo turno, eccetto mostri fuoco. Ecco, appunto, ecco la limitazione. E più specialiamo quel mostro. Se lo facciamo, riduciamo il livello di questa carta pari al livello originale di quel mostro. Se questa carta viene evocata tramite sincronizzazione, usando Salaman Great e Bors Griffon come materiale, possiamo attivare questo effetto. Durante la prossima semi-phase specialiamo un mostro dal cimitero. Quindi, il Tuner è abbastanza interessante, ti va a fare evocazioni special. Però durante la prossima stand-by, quindi non è che sia proprio il massimo. Poi, magia rapida, Salaman Great Charge. Possiamo attivare questa carta un'altra per turno. Attiviamo uno dei seguenti effetti, darghettiamo tre mostri fuoco che sono imbanditi nel cimitero, ne mischiamo due nel mazzo. E se lo facciamo, specialiamo il terzo. Ma i suoi effetti sono legati e non può attaccare. Se controlliamo un mostro fuoco, rituale, evosione, sincrixis o link, con un attacco corrente differente dal suo attacco originale. Darghettiamo una carta sul terreno e la spacchiamo. Può essere utile il primo effetto, ma non so quanto la potresti giocare. Perché comunque devi sempre avvenire un tot dei mostri al cimitero banditi. Però comunque col fatto che poi tu c'hai comunque, vabbè, fai link uno, te lo li levi, fai link uno, attivi effetto, prendi quello. Comunque tre mostri ce li hai sempre. Te li rimetti nel mazzo. Quindi te li rimetti anche nell'extra deck. Quindi al limite ti puoi andare a fare un altro link con lo stesso nome. Potrebbe essere interessante. Poi, trappola. Ah, qui ovviamente ci stanno anche le reprint, ovviamente. Possiamo utilizzare il primo e il secondo effetto, il nome di quest'arte con l'oltre per turno. Salaman Great Survive. Tragettiamo un fuoco nel cimitero, lo specialiamo. Possiamo bandere quest'arte al cimitero, tragettare un Salaman Great, che controlliamo. E un mostro con lo stesso nome del cimitero. Mischiamo il secondo target nel deck. E se lo facciamo, il primo target quando è l'attacco, guarda il suo tacco. Vabbè, questa qua non è che sia molto bellina l'artwork, molto bellina. Però non è che sia così fenomenale. Al limite te la potresti mettere, non lo per specialarti la roba. Ma, insomma, c'hai roba che te la rimette nel mazzo. Roba che se la evochi te la rende a mano. Roba che se giochi lui te ne fa giocare addirittura due nel tal cimitero. Quindi, insomma, allora, devo essere sincero. I primi due supporti mostrino molto interessanti perché ti consentono di fare sincro e appunto ti possono permettere di evocare il Baron tranquillamente. Lui me l'aspettavo molto meglio, devo essere sincero. Il sincro è interessante, ha la limitazione del fuoco, ma se non giochi il Baron lui può essere interessante. Ma non è che hai un negato o roba del genere. La magia può essere utile come non può essere futile. La trappola è più inutile che utile, secondo me. Però, insomma, alcuni, secondo me, potevano fare qualcosa di meglio. Come reprint, caselle, spinni, miragistaglio, bionics, silent wolf, sanctuary, circle, error. Comunque, c'è la manghetta che potrebbe avere un boost interessante, bisogna vedere. Allora, perché lui, ovviamente, si evoca tranquillamente, basta che c'è due più in mostrino alla manghetta al cimitero. Basta che, comunque, il giacchetti scarti lui, oppure fai effetto spinni o altro, è facile avere lì nel cimitero. Quindi questa si specia la facile, intanto, non è in più. Che anche lui che scarti uno, quell'uno che scarti, potrebbe riprendere sicuramente in qualsiasi modo. Allora, alcuni interessanti, alcuni un po' così. Poteva essere meglio, però, insomma, vedremo cosa ci dirà. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate. Noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. E un saluto a tutti. E un saluto a tutti.